Ha inaugurato ufficialmente questa mattina come madrina l'attrice Eleonora Giovanardi, Cosmoprof che con Cosmopac ha radunato qui a Bologna a Fiere più di 2500 espositori da tutto il mondo. Un successo in numeri straordinario per la Fiera e per la città che da ieri fino a lunedì sarà la capitale mondiale della bellezza.